...d'ora è trovare un parcheggio, cioè... ecco lì, ecco lì, ecco lì, dai che si andava via la macchina vai, metti la freccia ma mica farò imparcheggiare a me, no? e beh, ti senta lì ecco tutte le robe più difficili dai, metti la freccia tocca sempre farle a me ma dai, che sia facile no, 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 così, come hai fatto parcheggiare così, no? aspetta incredibile dai, indrizzate gira dall'altra parte no, dall'altra parte dall'altra parte senti, mi dici, indrizzate cioè, indrizzate io mi indrizzo così, no? dai, dai, non stai la riduzza muovete che si è messo la strada e questo? non è che quando ti indrizzi te fai così dai, fai dritto così, no? dai, scusa, scusa, scusa basta che te parcheggi attenta ai marciapiedi varie con i sergi nuovi che costa di più di la tua vita va piano che rumore c'è? ma non lo so forse la chiusura centralizzata sì allora senti con questo poco spazio qua come faccio a partigliare? ma come? che sta un camion 18 ruote motrici indrizza dai, vai as no, così, no no eh, allora, no mi stai agitando devi fare il silenzio mi agiti guarda, secondo me sta condanna qua dai, adesso ti chiede a fare la curva S l'autoscuola te che mi ha insegnato sì, sì ma la curva S me l'hanno insegnata di là no? di qua quindi non la so ma hai capito? ma hai fatto la corrispondenza a patente non mi ha capito sapi che mi fai questo fai quello e dopo mi confondi sì, ma me va su a pressione non ti devo farmi morire di infarto rifai la curva e fai la fatta meglio per piacere aspetta che stanno passando le macchine proprio tutte adesso siamo in strada perché vogliono darmi fastidio apposta dai, falla tinta il marciapiede e all'albero che c'è il platano sì, stai tranquillo che le cose grosse le vedo io sì, guardate che hai una vista no, si sopra il marciapiede no, no ecco tutta colpa tua e mi hai fatto venire una crisi istarica adesso la macchina te la parcheggi da solo te me che hai battuto la macchina te me che hai battuto la macchina ah a